ciao a tutti bentornati alle 4 chiacchiere su oggi parleremo di un brano dei cure dal titolo close to me ancora facciamo un viaggio indietro nel tempo e devo dire che mi sta affascinando questo viaggio e più ne scopro e più ne vorrei scoprire e più me ne capitano per le mani mentre lavoravo i video precedenti ho avuto il flash di alcune immagini di questo brano che ricordo sempre di aver visto quando ero ragazza la cosa che più mi aveva colpito oltre al musicista che suonava un pettine i denti di un pettine era il senso di claustrofobia che mi dava questo video fino al finale ora ne parleremo sia della canzone che del video non so se per una volta convenga a partire dalla fine cioè dalle dichiarazioni dei cure credo di sì che questa volta che stavolta convenga fare percorso contrario allora abbiamo una dichiarazione molto esplicita di robert smith che dice che il brano close to me che fa parte dell'album di head of the door del 1985 quindi ci troviamo sempre in quegli anni questo brano va a pescare nei ricordi più inquietanti della sua infanzia parole testuali che riporto virgolettate il testo parla della sensazione di una tragedia incombente e di avere il destino segnato che mi accompagnava sempre da ragazzino allora è dopo fare la premessa che robert smith ha sempre usato le melodie per raccontare il suo mondo interiore sovente è tormentato e a volte anche invece felice e accompagnato dalla bellezza della musica e cantato dalla bellezza della musica in particolare close to me nasce da un ricordo della sua infanzia molto vivido riprendo di nuovo le sue parole virgolettate mi sono ammalato di varicella e ho cominciato ad avere un'allucinazione la luce che filtrava dalla porta socchiusa della mia cameretta proiettava un'ombra sulla tappezzeria ogni volta che giravo lo sguardo in quella direzione prendeva forma e diventava un volto minaccioso che mi profetizzava qualche sventura e il disco di cui parlavamo the head on the door in realtà è diventato il loro disco di maggior successo nonché numero 7 nella classifica inglese e sicuramente questo brano ha trainato il successo continua ancora robert smith è stato molto strano all'improvviso ricominciato ad avere lo stesso incubo quindi ho deciso di raccontarlo su un giro di bassi di batteria in close to me il risultato è una canzone claustrofobica che ha preso vita in modo che non mi sarei mai aspettato prima di cantare il testo lo consideravo un pezzo mediocre in realtà invece fu un enorme successo il testo a mio avviso ci racconta una parte della storia nel senso che è animato soprattutto da sensazioni e flash probabilmente di questo incubo infantile ma il video forse racconta più di quello che il testo dice faccio una piccola parentesi io credo che sia successo un po' a tutti noi qualcosa del genere cioè di vedere magari idee di decorazioni su un armadio per esempio era successo con le venature del legno di un determinato armadio piuttosto che appunto mobili della casa luci che entrano attraverso le persiane cose del genere che che sembrano disegnare ombre figure giochi insomma nella mente soprattutto dei bambini e dei ragazzi queste forme poi spesso prendono assumono le fattezze di un qualcuno di qualcosa ecco ed è un po forse quello che ci sta raccontando il cantante veniamo adesso al testo ho aspettato per ora è questo mi sono addirittura ammalato avrei preferito rimanere a dormire oggi non avrei mai pensato che questo giorno finisse mai avrei pensato che questa notte sarebbe stata così vicina a me già questa prima frase credo che ci introduca nel discorso anche un po metaforico della notte come buio della come dire del dualismo tra luce cioè tra giorno e notte luce e oscurità il riferimento alla malattia potrebbe essere quel riferimento alla varicella insomma al periodo in cui era rimasto a casa malato possiamo immaginare ecco che faccio riferimento a questo comunque sentiamo un senso di ansia la notte è qualcosa che incombe su di lui questa è la sensazione che dà prova semplicemente a guardare nell'oscurità prova semplicemente a far funzionare tutto a sentire la paura che ti prende prima di essere qui ed ecco che arriviamo al discorso delle forme le forme delle cose nell'oscurità le faccio arrivare troppo vicino a me stringo gli occhi trattengo il respiro e attendo finché inizio a tremare da proprio l'idea sia di certi film diciamo dell'orrore che comunque di uno di forte ansia di forte stress sembra quasi di vedere questo bambino come dire ranicchiato che vede intorno a sé queste forme che strizza gli occhi sperando che scompaiano diciamo e trema in attesa di qualcosa di incombente che da un momento all'altro potrebbe accadere ma se avessi la tua fiducia allora potrei rendere tutto chiaro e sicuro o se solo l'avessi sarei sicuro che la mia testa appesa sulla porta era solo un sogno effettivamente da il titolo all'album è un'immagine abbastanza inquietante e poi ripete di nuovo tutto quest'ultima parte diciamo che è universalmente riconosciuto accettato insomma che questo questo brano che effettivamente non è il classico brano pop anni 80 però fa parte dei brani che hanno fatto quegli anni no della colonna sonora di quel decennio soprattutto per il grande successo che che ha avuto ecco e qui torniamo al discorso del videoclip claustrofobico e ad esempio a me è rimasto impresso non solo il brano ma il videoclip perché effettivamente credo che non avrebbe potuto rendere più spaventoso e quasi tangibile in questo senso di ansia che ha la persona perché non l'abbiamo detto ma lui e tutta la band sono praticamente chiusi dentro un armadio quindi c'è all'inizio del video appena ancora le porte aperte che consentono di vedere che sia appunto su una scogliera si intravede il vento il mare eccetera poi si chiudono le porte dell'armadio e loro sono schiacciati in questo spazio veramente claustrofobico tra cravate calzini e quant'altro ognuno con il suo strumento e in posizioni veramente naturali per stare chiusi lì dentro quindi col collo piegato con incurvati eccetera e abbiamo il cantante appunto che suona i denti di un pettine come se fossero uno strumento musicale potendo ad aumentare il senso di fastidio di claustrofobia appaiono delle piccole marionette quelle che letteralmente si si infilano sulle dita e che somigliano vagamente al cantante e agli altri membri della band e anche queste marionette appaiono e scompaiono al ritmo di musica quello che rende ancora più incredibile l'insieme è che apparentemente nessuno di loro fa nulla per uscire da questo armadio ed è forse una cosa che nessuno ha pensato almeno non mi è mai capitato di sentirlo dire cioè come dire continuano a star lì dentro nonostante questa situazione si intravede appena delle lame di luce che entrano probabilmente da delle fessure e loro lì dentro battono le mani soffiano suonano una di quelle tastiere elettroniche eccetera e anche se si avverte come una volontà interna soprattutto del cantante di venirne fuori cioè come se avesse una rabbia repressa tant'è però nessuno fa niente per uscire dall'armadio e mentre sono lì che suonano succede l'imponderabile che in realtà era prevedibilissimo agitandosi all'interno di questo vecchio armadio posto in cima alla scogliera l'armadio precipita giù dalla scogliera fa diversi rimbalzi continuando anche a sbattere contro le rocce come se la situazione non fosse già abbastanza angosciosa praticamente l'armadio precipita in mare quindi curiosamente non si frantumano al suolo ma comincia ad entrare acqua dentro questo armadio con il rischio evidente di farli finire diciamo annegati insomma di di sommergerli dall'acqua e ciò nonostante loro continuano a suonare e cantare mentre l'acqua sale il video si conclude così in realtà senza un finale con loro che insomma sono sempre più immersi nell'acqua quindi quello che batte le mani ha le mani inzuppate loro tuffano diciamo il viso nell'acqua e termina così quindi se non ci fosse tutta la spiegazione a monte che ci dice che in qualche modo si tratta di un incubo effettivamente sembrerebbe una sequenza spaventosa concludo qui queste quattro chiacchiere spero di avervi piacevolmente intrattenuto anche oggi se siete arrivati alla fine grazie perché mi rendo conto che dopo 3-4 minuti un video può anche cominciare ad annoiare e vi do l'appuntamento alle prossime quattro chiacchiere e vi do l'appuntamento alle prossime